Grazie in anticipo per la misericordia che avrete in questa oretta. L'argomento misericordia è parrocchia, vorrei introdurlo con una puntualizzazione proprio sulla misericordia che, come dice la parola, almeno in italiano, che arriva dal latino, latino è uguale, contiene due concetti, miseria e cuore. Misericordia è prendere la miseria di qualcun altro nel cuore. Questa origine latina della parola ci fa già capire come porci davanti a questo argomento, non pensando immediatamente come posso essere misericordioso, ma pensando come posso accogliere la misericordia, perché se c'è qualcuno che può prendere la miseria nel cuore è Dio. È Lui che ha preso la miseria nostra nel suo cuore. C'è un'altra etimologia, un'altra origine di questa parola che però non si sente nell'italiano, che è quella greca, quasi impronunciabile. C'è nel Nuovo Testamento un'espressione molto significativa, che in genere in italiano viene tradotta così, si commosse, un verbo. È applicata a Gesù quando, per esempio, si commuove davanti alla morte di Lazzaro, è applicata al padre della parabola quando il figlio minore ritorna, è commosso che forse incontro. È applicata al buon samaritano, che è comunque un riferimento a Gesù quando dice che vede l'uomo bastonato sulla strada, si commuove, scende e lo assiste. Questa parola greca è, sclandonizzo, ma è un'espressione che vorrebbe dire si muovono le viscere. È un'espressione materna. È interessante che sia applicata a Dio. Si muovono le viscere, si muove il gremo, vorrebbe dire. Cioè, c'è qualcosa che si muove dentro. Io credo che solo le mamme potrebbero dirci che cosa significa quando si muove il gremo. Cioè, c'è una creatura, una nuova vita che si muove e crea con la madre una relazione intima di affetto, di partecipazione che altri, immagino, non possono capire. La misericordia è il muoversi del gremo di Dio. Cioè, Dio non ci lascia esterni a noi, non ci guarda dall'alto al basso, compassionevole. Non si limita a lasciarsi provocare dalle nostre miserie, le porta dentro come una madre porta il figlio. Già queste due origini della parola, latina e greca, ci fanno capire che ha ragione Papa Francesco quando dice che la misericordia è il nome di Dio. Non stiamo parlando di un aspetto secondario della fede. Non stiamo parlando dell'indulgenza, con tutto il rispetto per l'indulgenza, parleremo del Giubileo. Non stiamo parlando neanche del sacramento dell'emozione dell'inferno, che pure è importante. Stiamo parlando del nucleo stesso della nostra fede. Dio è misericordia. Dio porta la nostra miseria nel suo cuore. Dio porta ciascuno di noi nel suo gremo. Mi pare che sia utile partire di qui, perché tutto il resto è conseguenza. Solamente quando io sono consapevole di essere amato da Dio anche nei miei difetti, anche nelle mie miserie, allora posso trasferire sugli altri questo amore. E' ciò che accade in una famiglia. Quando uno sperimenta nella propria famiglia di essere amato, quando poi si farà una sua famiglia, riuscirà ad amare. Se uno nella propria famiglia sperimenta di non essere accolto, di essere sopportato, addirittura di essere rompeso, è molto facile che poi, quando toccheranno, di dare vicine a delle relazioni, a una famiglia, riversi questi risentimenti sulla sua nuova situazione. Noi saremo una parrocchia, so, siamo tante parrocchie, no? Ma saremo nel nostro ambiente una parrocchia misericordiosa solo se ciascuno di noi si sentirà oggetto di misericordia. Bisogna che ci ricordiamo, purtroppo ce lo dimentichiamo spesso in Occidente, i nostri fratelli cristiani dell'ambiente se lo ricordano di più, che all'origine di tutto c'è un ricevere prima che un dare, c'è un passivo prima che un attivo. Io sono amato prima di amare, io sono perdonato prima di perdonare. Questo è vero per la vita umana, è vero anche per la vita cristiana. Nella vita umana è evidente che io sono passivo all'inizio, la mia origine io la posso dire solo al passivo. Io non posso dire io mi sono concepito, devo dire io sono stato concepito, io sono stato portato in greco, io sono stato accolto alla nascita, oppure sono stato rifiutato, sono stato nutrito, curato, sbavato, dissetato, sono stato. Noi lo diciamo alla forma passiva, perché l'origine della nostra esistenza è un dato. Per noi cristiani addirittura è un dono, per qualcuno è una maledizione. Ci sono delle persone che dicono l'esistenza è una maledizione, però tutti siamo d'accordo sul fatto che nessuno di noi è stato attivo nella propria origine. Non so quando ci si renda conto di esistere, gli psicologi variano un po', qualcuno dice un anno e mezzo, qualcuno due anni, due anni e mezzo. Comunque quando io mi rendo conto di esistere, io esisto già da un pezzo. Quando io mi rendo conto di essere al mondo e posso cominciare a parlare in forma attiva, io voglio, io non voglio, io desidero, io vado, io rispondo. Quando io posso dire così, già da molto tempo io esisto, sono stato pensato, concepito. Questo è vero anche nella vita cristiana e noi ce lo dimentichiamo troppo spesso. Prima di essere attivi, noi riceviamo. Prima di poter servire, noi non siamo serviti. che prima di poter amare, noi siamo amati. Se ci dimentichiamo questo, la vita cristiana, la parrocchia, diventa una aziendina, un'officina, un ufficio dove si organizzano delle prestazioni, anche utili, perché nessuno nega che si facciano delle cose belle. però, se ci dimentichiamo questa dimensione passiva, questo ricevere, non è più un'esperienza di chiesa. cosa significa esercitare la misericordia in parrocchia? Andiamo alla parte più attiva. Innanzitutto, perché ci sarebbe bisogno di esercitare la misericordia? la parrocchia dovrebbe essere una comunità in cui si va d'accordo, con cui non si litiga mai, non ci sono rivalità, sento che qualcuno rite, ma... la parrocchia deve essere un luogo in cui si vive l'armonia. Io conosco solo una comunità dove si vive in perfetta armonia, dove non si litiga mai, dove si va sempre perfettamente d'accordo. Si chiama la Santissima Trinità. Tutte le altre comunità, anche le comunità religiose, le comunità di preti, le migliori famiglie, la curia romana, tutte le altre comunità, tutte le altre comunità sono comunità ferite, anche le comunità migliori, perché noi siamo fatti in modo che quando ci mettiamo insieme emergano anche le nostre ferite. Forse qualcuno avrà letto alcuni scritti di Jean Bagné, una grande persona, un grande credente francese, ancora vivente, che ha fondato la comunità dell'Arca, questi luoghi di accogliezza, soprattutto delle persone svantaggiate, persone con elettrica. lui ha scritto delle cose bellissime sulla comunità. Il libro che forse riassume meglio di tutti il suo pensiero è La Comunità, luogo del perdono e della festa, un libro straordinario, dove fa vedere che quando due persone, o più persone, si mettono insieme e nasce da qualunque forma di comunità. Lì ci si comincia a conoscere, a felire e a perdere. Ci si comincia a conoscere, prima di tutto. Uno si conosce in base ai rimanti che ha dagli altri. la coscienza di noi stessi, ritorno ai primi anni di vita, è una coscienza riflessa. Io non nasco sapendo chi sono. Io lo vengo a sapere dai rimanti che mi danno gli altri, genitori, mondi, amici, cominciano a pormi degli specchietti e allora capisco chi sono, che carattere ho, se valgo o se non valgo, se sono accetto, se sono tollerato, addirittura rifiutato e solamente misurandomi con gli altri io riesco a maturare pian piano un carattere, un atteggiamento, una posizione nella vita. Man mano che cresco poi entro in una relazione che mi fa capire anche i difetti, le ferite. Io non scoprirei le mie ferite se non fossi in relazione con altri. Il guaio di chi, per esempio, è totalmente autoreferenziale, totalmente non è possibile, ma diciamo tende ad essere autoreferenziale, non si misura mai con le persone, non vive mai una serie di relazioni alla pari. È proprio un'impossibilità di conoscersi bene. Noi ci conosciamo negli incontri e a volte anche nello scontro. E poi il passaggio del perdono. E qui però casca l'asino. Cascano tanti asini sul tema del perdono. Il primo è quello che vi parla. Perché? Cosa significa perdonarsi, esercitare la misericordia? Lo vorrei dire riferendomi sempre alla parabola dei due figli. Che cosa significa lì esercitare la misericordia? Io mi fermo solo alla scena in cui il figlio ritorna, dopo aver sperimentato la propria vuotezza, l'inutilità della propria vita. Che cosa succede quando il figlio ritorna? Perché quello è il quadro più completo della misericordia che ci dà Ciosi. Il padre avrebbe potuto accoglierlo vendicandosi. Io penso che avrei fatto così se fosse stato illupio, ma è un consiglio ormai. Avrebbe potuto applicare lo schema della vendetta, che si può anche far passare per uno schema educativo. Cioè, bene, tu sei tornato, adesso io ti riprendo in casa, però lavori per il tempo doppio necessario a restituirmi quello che mi hai portato via. Così impari. Quante volte diciamo così impari. Così impari, dovrebbe dire, è una cosa educativa. Però spesso esprime solo il desiderio di vendicarsi. Cioè, te la faccio pagare. Do sfogo al mio istinto, mi rivolsa. Il padre non fa così. Allora avrebbe potuto applicare un secondo atteggiamento, che è quello della giustizia, non la vendetta. Lavori per il tempo dopo. No, la giustizia. Lavori per il tempo necessario all'esercire quello che è portato via. Occhio per occhio e dente per dente. Che era una regola, la cosiddetta legge del paglione. Non eccessiva, anzi, doveva contenere la violenza. Perché l'uso normale era due occhi per un occhio, due dente per un dente. La fidetta. Allora, occhio per occhio e dente per dente è la giustizia. Il padre non fa neanche così. Avrebbe potuto, proprio nei momenti migliori, avrebbe potuto dire, mettiamoci una pietra sopra, facciamo fin da niente. Come se non fosse successo a niente. Tu ritorni in casa e riprendi il lavoro di prima. E a noi probabilmente questo sembra misericordia. Perché evita di vendicarsi, evita anche di risarcimento. Eppure non fa neanche così. Che cosa fa? Organizza una festa. Cioè crea uno spazio di gioia, di felicità sulle ceneri dell'offesa. Questa è la misericordia. Prende davvero la miseria di quel figlio nel suo cuore. È come se lo facesse rinascere nel suo greco. Non a caso, come vi ho detto, si usa il verbo commuoversi. Commosso di corso incontro. Cioè, dopo avere sussudato nel greco di correre in cuoto. Lo sente ancora assoluto. In questo atteggiamento si misura quanto è difficile la misericordia. Perché io mi rendo conto quando qualcuno mi offende che mi viene molto facile la vendetta. Magari anche la vendetta tardiva è un po' più sottile calcolare. Però così capite anche come sono adesso. se sono in buona la giustizia quando proprio mi sono fumando qualcosa ci metto una pietra sotto ma non viene mai trasformare un'offesa in festa e non solo a me non viene questo perché la parabola prevede la presenza di un altro figlio che non accetta la misericordia qualche tempo fa spiegando i bambini della mia ex parrocchia i bambini della prima comunione questa parabola avevo avevo l'impressione all'inizio che la conoscessero poi si sono un po' persi arrivato a questo punto ho detto il padre fa la festa bambini la parabola è finita si si ne ha ancora un orologio no ce n'è ancora una parte c'è qualcuno che rimane male e nessuno riusciva allora vi do un aiuto all'inizio si dice un padre aveva due figli figlio minore mi disse chi è che rimane male finalmente forse mi chiedono quel bambino alzato alla mano mi chiedono chi è che rimane male e lui ha detto il vitello grasso perché perché probabilmente anche il vitello grasso ma il figlio maggiore il figlio maggiore rappresenta proprio la giustizia strettamente intesa non non crea nel suo cuore nessuno spazio di misericordia certo che se noi misurassimo le relazioni con il bilancino avrebbe ragione nulla il suo ragionamento non fa una piega io non ho mai trasgredito il tuo comando e non ci vuole molto pensare che Gesù stava parlando dei farisei per l'omaggiare dei farisei io non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato neanche un capretto per far festa con gli amici questo tuo figlio che ha abitato tutto ha avuto il vitello grasso il capretto è il vitello grasso ma la risposta del padre indica che cos'è la misericordia è verso lui perché dice figlio tutto quello che è mio è tu altro che di bello grasso tu non ti sei reso conto che avevi la cosa più importante la relazione con me questo mi pare che ci indichi uno stile nelle nostre parrocchie cos'è la misericordia tra di noi che cosa significa poter addirittura fare festa per il ritorno di chi ha sbagliato io credo che significhi tre cose la prima è un atteggiamento che Gesù chiama nella Gelo di Matteo la correzione fraterna questo è il primo passo della misericordia cioè come faccio io a vivere nella mia comunità cristiana relazioni di misericordia se io non passo attraverso il tu per tu attraverso la reciproca correzione rimangono parole capata per aria Gesù ci indica in Matteo 18 un metodo molto concreto se traduco così se c'è una ferita nella comunità se il tuo fratello ha qualcosa contro di te ha commesso qualcosa contro di te cioè se c'è una ferita tra di voi che cosa fare qui non si sfugge vai e correggilo tra te e lui solo questo è il primo passaggio il tu per tu se non ti ascolta prendi con te due o tre testimoni cioè coinvolgi altre persone che gli vogliano bene se non ascolta neanche loro dillo all'assemblea cioè prendi partecipi alla comunità cristiana se non ascolta neanche l'assemblea sia per te come un bagaglio pubblicano che non significa mandalo al diavolo significa tu hai fatto tutto quello che potete che puoi solo creare un metodo molto semplice uno stile di misericordi in quattro passaggi che cosa succede però a volte almeno mi ricordo che succedeva fuori e succede anche a Modena non so se in una succede che quando io ho qualcosa o qualcuno ha qualcosa contro di me quando mi offende prima lo mando al diavolo poi lo sanno tutti poi lo sanno gli amici poi lo sa anche lui cioè lo applichiamo ma esattamente non riesce questa non è misericordia misericordia è il partire dal rapporto interpersonale perché Gesù ci chiede di aiutarci partendo dal tu per tu perché il rapporto personale rispetta la dignità dell'altro gli do la possibilità di chiarirsi eventualmente di scusarsi oppure di ribattere ma è difficile perché è molto più facile se so che qualcosa non va in comunità andare a dirlo al forno o dalla parrucchiera piuttosto che chiamare la persona e dirlo con questa persona questo però va for lì e a moda poi ci sono gli altri passaggi allora chiama le persone amiche dillo alla comunità consiglio pastorale non va più sulla fine della messa cioè c'è veramente una metodologia di misericordia molto pratica ma molto efficace ho visto che quando si riesce a praticare la correzione fraterna le relazioni in una comunità iniziano a risanarsi non esiste la pacchetta magica però ci si comincia a capire c'è un interesse per l'altro secondo passaggio potrebbe sembrare negativo e positivo io la chiamo la franchezza la franchezza tra i vari versetti che si potrebbero citare basta citare un passaggio del discorso della montagna Matteo 5 il vostro parlare sia sì sì no no di più viene dal maligno allora io questa sera vengo dal maligno per riparare un po' ma Gesù non può dire questo bisognerà tradurre così il vostro parlare sia sì sì no no ossia se pensate sì dite sì se pensate no dite no non girateci attorno non pasticciate le cose siate franchi San Paolo usa spesso una parola greca parassia vuol proprio dire la sincerità non è la brutalità è l'aprire il cuore secondo ciò che veramente si pensa e soprattutto farlo davanti alla persona non alle spalle Papa Francesco credo 25 26 volte ha fatto delle omelie contro le chiacchiere anche nelle comunità cristiane dicendo che le chiacchiere alle spalle distruggono ed era anche un punto fermo di San Francesco nelle fonti francescane specialmente nelle vite di San Francesco lo presento in particolare la vita seconda di Tommaso da Celano che è uno dei soli primi biografi si dice spesso che Francesco era convinto che il veleno della vita comunitaria fosse la maldicenza cioè parlarsi alle spalle e che questo fosse il contrario dell'amore e della misericordia ci sono delle pagine noventi attribuite a San Francesco su questo punto forse più che tanti concetti può valere un fatto sto per dire una cosa di San Francesco che forse non corrisponde proprio a di San Francesco che parla di San Francesco che parla di Cennini avanzisce il lupo che viene in punta di piedi nei prati qui viene a fare Francesco un po' più energico quando lui veniva a sapere di un frate che in qualche convento aveva sparlato alle spalle di un altro frate aveva una sua cura particolare ordinava che questo frate maldicente fosse accompagnato al convento di Firenze dove c'era dice la fonte un fratone grande e grosso un certo frate Giovanni soprannominato il pugile di Firenze il quale aveva tra gli altri questo compito di pestare il maldicente dopo una formalescenza adeguata che lui aveva riportato sul suo convento e un francesco diceva così forse capirà la gravità di ciò che ha connesso non è un suggerimento per le nostre parrocchie però se Francesco che è l'uomo della pace della non violenza del rispetto per tutti faceva così vuol dire che la maldicenza è il veleno è esattamente il contrario della misericordia è il dire male dell'altro per abbassarlo anziché portare l'altro nel cuore con le sue miserie dire male dell'altro credo che ogni passo che possiamo fare in parrocchia richiamandocelo verso la franchezza anche verso il parroco se io ho qualche cosa da dire sul parroco non lo devo dire prima di tutto sul parroco ma al parroco poi magari ci rimane ma così vale tra catechisti tra i gruppi vale per tutti se noi attiviamo questo meccanismo suggerito da Gesù il nostro parlare sia sì sì no no noi introduciamo un'altra dose di misericordia nella comunità la terza indicazione non ho 47 sono 30 faccio una conclusione e andiamo di va la terza indicazione e traduzione pratica della misericordia è la stima la stima correzione fraterna franchezza stima San Paolo nella lettera ai romani al capitolo 12 ha un'espressione molto significativa gareggiate nello stimarvi a vicenda questa è l'unica gara ammessa nelle olimpiadi della fede cristiana la gara della reciproca stima di solito cosa succede questo peccato che ci portiamo dentro questa tendenza all'egoismo ci porta a gareggiare ma nel disestimarci a vicenda questo sempre a far dire no cioè nel dire si chi si crede di essere non li fa questo in comunità lo fa per farsi vedere ah io lo so quando lui dice così è un bravo catechista ma predica bene razza alla male ah non li fa questo ma se sapessero cosa c'è le spalle noi di nostra natura siamo portati ad abbassare un pochino gli altri perché questo orgoglio che è l'essenza del peccato questo l'orgoglio la superbia ci porta a volerci mettere un po' sopra che un odio e quindi se c'è qualcun altro che apparentemente è sopra e dobbiamo abbassarlo gareggiatemi questi marti questa sarebbe veramente la medicina contro ogni forma di rivalità più volte San Paolo esprime con questa parola rivalità nelle sue lettere uno dei problemi delle comunità cristiane quando noi vogliamo vedere quali sono i problemi delle nostre parrocchie leggiamo una lettera a qualcuno di San Paolo perché lui ha già detto tutto se proprio siamo giù e ci sembra che la nostra parrocchia sia la peggiore ci possiamo tirare su leggendo la prima lettera ai Corinti prima lettera ai Corinti basta leggere l'indice parla di questa comunità come sarebbe la nostra parrocchia probabilmente fatta da qualche centinaia o qualche migliaia di persone che Paolo chiama all'inizio i Santi di Corinto quindi uno che legge l'intestazione i Santi di Corinto chiamati alla Santità sono tutti su piedi stavano laureola poi vede che questi Santi capitolo primo sono divisi in partiti io sono di Paolo io sono di Cepra io sono di Apolo io sono di Cristo quindi c'è una divisione non c'è niente di nuovo io sono dell'azione cattolica io sono scauto io sono di Cirelli io sono sempre fuori poi vede nel secondo capitolo che questi Santi fanno fatica a credere al messaggio della morte di Gesù della croce che salva vogliono una parola di sapienza non si accontentano della croce di Gesù poi vede che tra questi Santi ci sono dei grossi disordini morali il caso di incesto al capitolo quinto la pratica della prostituzione al capitolo sesto fanno confusione tra il culto agli idoli e le carni molate agli idoli e i loro pasti al capitolo ottavo celebrano l'eucaristia in un contesto di disordianza sociale c'è chi si ubrià che chi non ha da mangiare al capitolo undicesimo vivono i carismi come se fossero una gara di superiorità capitolo dodicesimo fanno fatica a vivere la carità tredicesimo non credono alla risurrezione di Gesù e alla risurrezione dei morti quindicesimo finalmente nel sedicesimo capitolo Paolo saluta di nuovo i Santi di Corinto allora diciamo siamo Santi anche noi da questo punto di vista ma qui c'è tutto c'è la rivalità c'è la divisione ci sono le immoralità ci sono le ingiustizie le fatiche nella fede non è necessario pensare cose nuove ma proprio per questo Paolo dice gareggiate nello stimarvi a vicenda perché sa che la vera medicina della misericordia è la stima reciproca non una stima improvvisata una stima che nasce dalla conoscenza che è passata attraverso la correzione fraterna che si nutre di franchezza non un sorriso a 32 denti prestampato verso tutti ma relazioni provate che alla fine però trovano in tutti qualcosa di positivo io rimasti colpito molti anni fa andando a pranzo dalla famiglia trovare due soleline un po' di anni fa non avevo assoluto due sposate una aveva tre anni e una aveva uno qualche mese e siccome ero stato preavvisato dicendo da una persona amica quando vai in una famiglia e ti trovi due tre quattro fratellini di cui uno molto piccolo non andare subito dal piccolo e dire che bellino che bellino perché gli altri sono gelosi allora entrai e andai in cucina dove c'erano le due sorelline e salutai per prima la grande e lei mi disse no no prima saluta la mia sorellina guarda come è bella poi ho capito conoscendo la famiglia c'era questa educazione a una stima vicendevole tra le grandi intuizioni di Dante Alighieri se qualche studente adesso no la divina comedia si apprezza dopo tra le grandi intuizioni ce n'è una che è formidabile quando nel paradiso presenta San Francesco e San Domenico i due grandi fondatori di ordini medicanti Dante scrive poche decine anni dopo i due grandi potrebbero quasi dire santi rivali non fra di loro ma in relazione ai rispettivi ordini perché Francescani e Dominicani gareggiavano non sempre nello stimare se lo c'è non è dire siamo più grandi noi siamo più grandi bene quando presenta i due fondatori come può fare né San Francesco né San Domenico siamo nel canto undicesimo e dodicesimo del paradiso si possono presentare da soli perché sarebbe un atto di superbia sono due santi molto ugli allora ci vuole qualcuno che li presenti chi può presentare San Francesco meglio di San Bonaventura che è uno dei più grandi teologi del duecento è un grande francescano successore di San Francesco chi può presentare San Domenico meglio del grande San Tommaso contemporaneo di Bonaventura più grande teologo medievale Domenicano e invece Dante fa uno scherzo da poeta incrocia le presentazioni San Francesco viene presentato dal Domenicano Tommaso e San Domenico dal Francescano Bonaventura uno canta le noti dell'altra tradizione è una stentata incredibile significa ogni volta che io apprezzo i tuoi degli altri c'è un pezzetto di paradiso ogni volta che io riesco a stimare l'altro diverso da me forse anche per le sue diversità lì veramente siamo in una comunità giudiosa anche nelle sue diversità perché il passaggio della misericordia è il passaggio dal singolare al plurale misericordia fa sempre riferimento a una relazione a un altro se io continuo a dire io 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 alla fine il podio il primo il primo gradino quello più alto deve essere mio e se arrivo al quarto posto come Valentina è un problema devo essere il primo se io comincio a dire noi 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 allora se l'altro ha un dono che io non ho grazie signore non sa cosa c'è dietro lo fa per farsi vedere no grazie perché solo insieme siamo comunità la comunità non è la somma di tanti individui è una rete di relazioni per cui veramente come dice il padre della parabola quello che è mio è tuo ma questo passaggio dal mio a noi questa mentalità di misericordia non è una vita c'è sempre quel diavoletto che si chiama orgoglio che ci tira verso il podio concludo con questa osservazione la misericordia io ho provato a dire tre passaggi tre ingredienti della misericordia in una parrocchia ma ce ne sarebbero tanti altri la misericordia è un cammino che stiamo ricordando questa categoria del cammino perché è prendere per mano una persona dal punto in cui è fino alla meta una icona della misericordia un'immagine molto chiara della misericordia c'è là dove alla termine di una scena molto nota del Vangelo capitolo 8 di Giovanni la dultera Gesù esprime con due frasi il succo della misericordia questa donna è stata portata dagli anziani che vogliono mettere in trappola Gesù tu cosa dici Mosè dice che dobbiamo lapidare donne come questa è stata portata con una bella etichetta ad un teradoc te l'abbiamo etichettata adesso veditela tu perché se tu dici che dobbiamo rilasciarla vai contro Mosè se dici che dobbiamo lapidarla vai contro il tuo stesso insegnamento vediamo come te la caga e Gesù invece di cadere in questa trappola svela il cuore chi di voi è senza peccato scaglie per primo la tientra non gioca Gesù con i gotici Gesù va subito alla coscienza se ne vanno e rimane la donna sola là in mezzo e Sant'Agostino commenta restavano la miseria e la misericordia come si esprime questa misericordia di Gesù la miseria si era già espressa è un adultero combinato uguale merita la morte adesso tocca la misericordia come se la cava Gesù donna nessuno ti ha condannato notate che non dice adultera nessuno ti ha condannato Gesù strappa via l'etichetta la misericordia non usa le etichette è allergica alle etichette donna cioè recupera la sua dignità nessuno signore ed ecco le due espressioni neppure io ti condanno vai ed ora in poi non peccare più neppure io ti condanno vuol dire io ti accorgo pienamente come persona dal punto in cui sei hai commesso un peccato ti accorgo da questo punto ma ti voglio tanto bene e ci tengo tanto che tu sia veramente donna che ti dico vai ora in poi non peccare più ti metto in cammino la misericordia è questo accogliere la persona dal punto in cui è con la sua miseria che sia una miseria materiale morale spirituale affettiva per accompagnarla verso la meta di liberazione ma voi capite che questo collegamento da Gesù gli usciva benino per quello è un vantaggio per noi è difficile è difficile perché nella nostra cultura manca la categoria di misericordia nel senso che non è spendibile per esempio nel campo giuridico immaginate se valutando un reato di giudice a un certo punto dicesse beh adesso sono pieno di misericordia non sei colpevole ma si libero sarebbe uguale giudiziale al massimo ci sono delle attenuanti ma non c'è la categoria di misericordia nel codice civile nel codice penale tanto meno quello stradale non c'è non c'è neanche un altro campo importante nella nostra vita che è il commercio lo scambio di beni vado negli alimentari quant'è un etto di prosciutto sono 10 euro però sia misericordioso mi faccia cibo usiamo la categoria di sconto o di proie ma non c'è misericordia noi non la spendiamo in questi campi la spendiamo a malapena nelle nostre relazioni forse familiari un supplemento di amore di affetto di perdono tant'è vero che quando nella chiesa si parla dell'accoglienza del peccatore e contemporaneamente di un'accoglienza tale che lo porta a uscire dal peccato verso una liberazione verso una verità nei mezzi di comunicazione si prende con uno o l'altro aspetto è successo sempre anche col sinodo sulla famiglia se uno dice neppure io ti condanno cioè accoglie totalmente la persona allora quello è un monista oppure è un progressista come lo si vede se uno dice vai ad ora in poi non pecare più allora quello è un tradizionalista oppure è un rigido ma in realtà la misericordia è il collegamento tra la situazione soggettiva e la vita oggettiva certo che è molto più facile prendere l'uno o l'altro è molto facile assumere un atteggiamento umanista tu sei in questa situazione il Signore ti vuole bene lo stesso è vero ma se io non mi fermo lì se Gesù avessi solo detto neppure io ti condanno e avrebbe detto beh cosa che tutti insomma non è così male l'adultere e la persona rimane ferma dall'altra parte se si usa solo l'atteggiamento rigido se Gesù avesse detto nessuno ti ha abbandonato vai e d'ora in poi non pecare più lei avrebbe detto ah questa volta mi è andata bene ma questo mi bastona se lo faccio ancora e di nuovo si sarebbe bloccata la misericordia è il cammino tra la situazione della persona e la vita ed è più faticoso molto più facile legittimare tutto o condannare tutto legittimare ma neanche condannare le persone è molto più difficile accompagnare perché richiede che io mi scomodi la misericordia richiede relazione il giudizio no quello è così la legittimazione no fai quello che ti pare la misericordia invece richiede che io mi coinvolgo che io ti dia una mano che io prenda la miseria nel tuo cuore che io ti dia una mano per andare verso la vita siccome un po' di misericordia c'è l'unico adesso mi fermo e facciamo se volete un po' di dialogo grazie